La Colibri è conosciuta a livello internazionale da oltre 25 anni, disegna e realizza per i nuovi nati una linea pregiata di maglieria. La produzione di Colibri è tutta rigorosamente italiana con finissime tecniche artigianali, il suo stile è sobrio e raffinato ma sensibile alle tendenze moda e alla mamma di oggi. Le materie prime usate sono le migliori disponibili sul mercato, con particolare attenzione al fatto che, essendo prodotti per neonati, devono essere delicati come la pelle dei bambini.